ecco ecco eccoci ancora qui ragazzi mitici mitiche mitichi vediamo se funziona la web logitech apposita via test per streamare con voi volevo vedere come si vede lasciare impostazioni visualizzazione non ci sono un po' di prove l'ha chiusa e l'ha riattivata allora ok 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 allora è un po' un bordello eh nel senso allora volevo il mare ok 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 non riesco a ciao boss ma ascolta una cosa adesso stava funzionando come ti ho detto io attaccando da davanti e dietro ma non c'è la possibilità di avere un menu qualcosa da selezionare cosa far vedere perché è troppo grande mi inquadra troppo a me piace che mi inquadra solo la faccia così non tutto l'ambiente c'è la possibilità secondo te o su xbox non c'è come nella play di andare a selezionare quello che vuoi tu dai andiamo a vedere se si vede 5 minuti ciao ragazzi benvenuti voglio solo vedere one second please qui qua vediamo se mi appare no quindi devo tenere attaccato il cellulare in muto quasi perché se no c'è il ritorno e se mi scrivete abbiate la pazienza che che devo leggere sul cellulare e rispondervi e rispondervi avventure in its own right for the entrance lies hidden somewhere in this canyon a sprawling maze of malevolent mobs and lost secrets i ho il tempio Allora ragazzi, subito dopo andiamo con l'inlight Ok, qui siamo un po' più regolari Perché se non avete visto la mia live Settevate capire che con Johnny Boy Praticamente era diventato un disastro Lui, essendo alto Dissendo molto alto Mi buttava su Il livello di difficoltà Altissimo Adesso così È molto più lineare Più tranquillo A tutti si buona sandalettino Allora Ehm, ehm, ehm Ehm, ehm Ehm, ehm 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 Perfetto Aumentiamo un po' di livello Andiamo avanti Ciao ragazzi Benvenuti Ehm 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 Beh Ehm Ehm Ah, un po' più i gansi, eh? Ah, un po' più i gansi. Ah, un po' più. Ah, un po' più i gansi. 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 Ah, un po' più. 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 Ah, un po' più i gansi. Ah, un po' più. Ah, un po' più. Ah, un po' più. Ah, un po' più i gansi. 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 Perfetto. Sì, sì, sì. 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 un po' di pane buono giole buono giole ok prendiamo un po' di smeraldi ciao ragazzi mitici scrivete sempre sulla chat di twitch così so che siete dentro a giocare con me un po' di minecraft perché l'avevo cominciato col grande zaniboy di tipo leonardo questo gioco è molto fico lo vendono anche sulla playstation ma è incluso nel game pass ricordo ragazzi quindi se volete giocarlo un po' di Non ho la chiave Dovrò fare tutto il giro per procurare questa chiave Non ho la chiave Non ho la chiave Non ho la chiave Oh, no ho la chiave ah la chiave è blu la chiave è blu ragazzi oh oh la chiave è gialla scappa scappata la chiave è gialla scappata la chiave è gialla la chiave è bosta non lo so porca porca la chiave è gialla quanti ce n'è che non si spegne il telefono che vi sto trovando adesso che c'è una notifica scusate raga se avete scritto riscrivete raga perchè non ho se ne aspetto il telefono pure sto vedendo il programma mi va in risparmio di energia non ho capito messo logico delle cose devo fare un po' di esperimenti non ho capito con la webcam come si vede non ho capito allora nulla l'ho esplorato veramente bene questo posto io ho preso la webcam per la teresit devo capire un attimo come impostarla al meglio oi No, no, sempre tutti i posti portano Portano a Roma Tutte le strade portano a Roma Non sempre Ah, tu hai trovato il templo di deserto Chi si sapeva quattro e piacere che ci sceglie Ok Andiamo un attimo beh c'ho 20 ma il fungo cos'è che mi fa? scusate questo non è meglio, scusate sembra che è oro 17, 19, 12 ma che è il nostro paese non ma non 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 mi sono fatto una cazzata ah qui la torre ok questo è il canyon quindi non l'ho fatto al massimo ma è aperto il tempio del deserto nella prossima live andiamo avanti al tempio del deserto poi aprirà anche questo qui viaggio all'isola l'isola cosa sono tutti dlc forse tra nuove missioni tutto va bene amici miei io vi saluto marco tram di channel via era un abbraccio ricorda di iscrivervi su youtube facebook twitter instagram facebook twitch discord e soprattutto un bel vi piace commentate e attivate la campanellina su youtube su twitch mi raccomando di iscrivere iscrivervi così io vi faccio che siete dentro dovrò attivare per bene la webcam che è arrivata oggi ma devo ancora impostarla bene su serie 6 dove sto giocando adesso con minecraft del dengio game pass e di show e tutto per stasera credo di ritornare con di light ma essendo so vanno fino magari non ci torno neanche più stasera in live e ci vediamo direttamente domani devo decidere un atto da tutti ragazzi alla prossima da marco deramo games è tutto ciao amici mitici mitici mitica mitico mitichi ciao grazie a tutti